buongiorno nel vangelo di oggi dal capitolo 13 di luca i versetti 18 21 gesù in due brevi parabole descrive che cos'è il regno di dio e lo paragona a un granello di senape gettato nel giardino per poi diventare un arbusto all'ombra dei cui rami gli uccelli fanno nido come pure al lievito che fa lievitare tre misure di pasta in queste brevissime parabole gesù ci insegna almeno tre cose importantissime a riguardo del regno di dio la prima cosa è che il regno di dio non sta soltanto lassù nei cieli o nell'aldilà dopo la morte se un granello di senape gettato nel giardino se lievito nella massa il regno di dio vuol dire che sta qui nel mondo il giardino è il mondo la massa e l'umanità tutta il regno di dio va cercato fin d'ora dentro le dinamiche dell'umanità nella storia il regno di dio ha qualcosa a che vedere con la realtà che stiamo vivendo già adesso e non soltanto con il dopo con l'aldilà con il cielo è incarnato nelle vicende della nostra storia il secondo insegnamento che coniamo è che questo regno di dio nella storia ha a che fare con le cose piccole con ciò che è nascosto un granellino di sena per il più piccolo fra tutti i semi un po di lievito destinato a scomparire dentro la massa il regno di dio dunque non riguarda le cose appariscenti non è questione di fatti straordinari il regno di dio sta dentro le cose piccole sceglie i piccoli parte dai piccoli il regno di dio dunque è vicino più agli ultimi che a coloro che stanno ai primi posti di questo mondo dopo questi due aspetti così rivoluzionari nella logica del regno di dio il terzo è pure importantissimo questi segni piccoli della sua presenza sono comunque segni dinamici il regno di dio non ha a che fare con la staticità con il si è sempre fatto così ma mette in movimento scuote fa crescere esercita un'energia di vita dirompente che non si può trattenere il regno di dio dunque è sempre novità è sempre movimento azione questo significa per noi che vogliamo incontrare il regno di dio qui adesso nella nostra storia andare a cercarlo laddove vi è vitalità creatività fantasia proprio come fa l'amore che in fondo è il dna del regno di dio noi lo sappiamo il regno di dio è gesù stesso e allora la sua persona se la vogliamo incontrare dobbiamo cercarla fra i piccoli fra gli ultimi nel nascondimento ma un nascondimento che non è staticità bensì movimento creatività novità buona giornata alla ricerca del regno di dio che sprigiona energia di vita fra gli ultimi